Siamo in diretta dalla ricerca di Laira, dove si sta concludendo il nostro secondo giorno di camminamento, dove si è presentato con la scelta, dove si è presentato con la scelta situazioni sia sul comportamento sociale, che sulle prezze, in particolare ci stiamo cimentando nella sperimentazione di una nuova linea di ricerca, che è quella che ci vuole aiutare a far capire se i visuali hanno una percezione della tridimensionalità e per questo motivo stiamo utilizzando due tipi diverse di tagome, una bidimensionale e una tridimensionale. I risultati che abbiamo iniziato a raccogliere sono molto interessanti, per cui il consiglio che vi posso dare è quello di continuare a seguirci, perché nei prossimi giorni magari avrete qualche nuova attenzione. Salve a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!